Buongiorno a tutti, sono Luca Turelli, General Manager di Rueg Italia, nuova società sul panorama italiano che eredita la distribuzione dei marchi prodotti dal gruppo, quindi RWS, Norma, GECO e Rottweil. Siamo qua all'Ivoa di Norimberga dove stiamo presentando 60 nuove novità divise per i nostri vari brand, abbiamo la nuova linea delle ottiche di GECO, abbiamo la nuova linea dei binocli di GECO, abbiamo, pensate, dopo 15 anni nuovi calibri sviluppati insieme a X-XA o a R-Blaser su RWS. Rueg Italia distribuisce in via esclusiva per il mercato italiano le ottiche Kales, le ottiche Kales le conosciamo tutti, sono premium optics, quindi alto livello di gamma, quindi caccia, tiro e sport. Dopo abbiamo altre esclusive a livello europeo, sono i BPA di Sparta, gli attacchi Tier 1 e abbiamo anche gli attacchi HMS per la caccia. Rueg Italia nasce con l'intento di dare un supporto diretto e vendere direttamente i prodotti della casa madre e quindi abbiamo creato una nostra rete di vendita con dei nostri agenti che verranno a trovarvi direttamente nelle vostre armerie per farvi vedere tutti i nostri prodotti e la nostra nuova politica commerciale.